Allora lunedì il 7 abbiamo la nostra prima rassegna di Nasty Women. Abbiamo fatto questa serie due anni fa, l'idea di dare un'occhiata alle donne comici forti in questa epoca, le donne che creano il chaos intorno a loro, è un'idea di sottolineare l'importanza del femminismo in un certo senso dell'epoca, i suffragettes per esempio, ma queste sono le cose gioiose. Abbiamo i film da 1898 fino al 1913, queste non sono le cose arcaiche, queste sono le cose che dà una gioia anche al pubblico di adesso, quindi è una cosa da non perdere.